ciao a tutti oggi realizziamo bracciale con un rotolo di cartigenica cosa ci occorre forbici mais pasta un rotolo di cartigenica brillantini un pennello colla vinilica tempera prendiamo il rotolo tagliamo prendiamo la nostra colla vinilica incominciamo a decorare il nostro rotolo con la pasta e la colla prendiamo il mais e continuiamo a decorarlo abbondate con la colla perché tanto dopo si asciuga una volta decorato lo lasciamo asciugare prossimo passo coloriamo con la tempera il nostro bracciale quando la nostra tempera è ancora fresca ci versiamo sopra tutti i brillantini ecco il risultato finale bello eh ciao ci vediamo al prossimo laboratorio bello